Grazie a Valerio Corsi per il suo intervento. Ricordo che a questo documento congiunto hanno già aderito due realtà importanti dell'associazionismo che ha a che fare con la problematica Roma in Italia, che sono Bottega Solidale e Cooperativa Sociale Hermes e al documento ha aderito anche il Centro Europeo per i Diritti di Roma. Questo documento, come già detto, ottiene una serie di proposte concrete rivolte all'amministrazione di Roma Capitale e noi speriamo che l'amministrazione possa recepire questo importante documento o che comunque possa mettere in atto un piano che rappresenta una lupura con il passato. Noi ci speriamo e siamo qui per questo. Comunque si è parlato di superare l'ottica emergenziale, si è parlato di superare la politica di campi nomadi come tra l'altro già sancito dalla strategia nazionale di inclusione e sottoinclusione che era un sito e camminati. Ma veniamo conto come tutto questo si può realizzare e ce lo spiega Carlo Stasola e il Presidente dell'Aventura. E' preoccupante che dopo diversi mesi che una giunta si è insediata alle organizzazioni del terzo settore che devono formulare delle proposte considerate un luogo che c'è sulla questione dei nomi simili, cioè formuliamo delle proposte senza sapere ancora quali sono i limiti di questa amministrazione. Quindi dovrebbero essere lette come un grande favore che si fa all'amministrazione per dare le proposte. Prendiamo atto che nessuno degli amministratori vitali è presente, pur stando in questa sede. Perché i campi vanno chiusi? Allora, la realtà dei villaggi attrezzati a Roma è unica in Europa e nel mondo. L'Italia è il primo paese che ha deciso che i Rom sono nomadi, quindi incapaci e adatti a vivere nelle case, quindi per loro vanno costruiti i villaggi attrezzati. Allora, il documento parla dal presupposto che questi luoghi vanno chiusi. E questo per due motivi fondamentali. Il primo è legato all'enorme pressione che le grandi organizzazioni governative e non governative da 13 anni stanno facendo al nostro paese. Anno 2010, comitato per l'eliminazione e la discriminazione razziale delle Nazioni Unite, l'Italia deve astenersi da confinare i Rom in campi fuori dalle aree residenziali, isolarli senza accesso all'assistenza sanitaria e ad altri servizi. Anno 2005, comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, con la relazione numero 4, l'Italia deve premienire l'istituzione e la creazione di gheriti. Anno 2010, comitato europeo dei diritti sociali. Si condanna l'Italia, infatti le sue politiche sono basate sui campi di Roma che si ritiene e non garantiscano le condizioni minime e essenziali per la vita dignitosa. Anno 2011, comitato europeo straordinario per la tutela e la produzione dei diritti umani del Senato. Qua si parla del piano Roma di Roma. L'esperienza del piano Roma di Roma mette in luce il tutto a una serie di pubblicità che suggeriscono come per risolvere la questione Roma in un modo efficace, sia sotto il profilo della sicurezza, sia dell'integrazione, sia utile esplorare nuove strade e nuove soluzioni che vadano all'interno della cosiddetta campizzazione. Febbraio 2012, strategia nazionale di rinconclusione dei nomi dei sinti, richiesta e approvata dalla Commissione europea del governo italiano. Si sottolinea la necessità di superamento dei campi per combattere il riscolamento e favorire la internazione sociale. La politica dei campi nomi ha limitato negli anni un disagio bibliotipo fino a di venire da conseguenza che sta stessa presupposto e causa di un'attività spaziale e dell'istituzione sociale. Febbraio 2012, Commissione europea per la lotta razzismo e all'intoleranza. Si raccomandano le autorità italiane di combattere con frequenza la segregazione in cui sono esposti Roma nel settore dell'alloggio. Marzo 2012, Comitato per le nominazioni della segregazione nazionale delle Nazioni Unite. Si esorta l'Italia ad astenersi e collocare i nomi in campi situati al di fuori dei centri abitati, spavvisti di installazioni basi, quali servizi sanitari e strutture educative. Il Comitato è un coraggio d'Italia ad addoppiare gli sforzi per evitare la segregazione abitativa delle comunità come simile. Settembre 2012, Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa. Il Commissario crede fermamente che i campi segregati per le popolazioni ronde e sinti in Italia siano da rilegare definitivamente al passato. Queste sono solo un straccio di quanto da 13 anni viene detto sul nostro Paese e sulla nostra città. La prima regione per cui i campi bannettosi è perché ce lo dicono tutti. La seconda regione invece è di grattere economico. Allora, se noi viviamo gli 8 villaggi pensati presenti nella città e sogniamo le diverse voci di spesa, acqua, energia elettrica, pulizia interna, pulizia ama, periodiche di manutenzione ordinaria, periodiche bonifiche di radicazione, panni chimici, manutenzione straordinaria, forse il lavoro, trasporto scolastico, mediazione scolastica, centri estivi, presidio socioeducativo, vigilarsi a guardia di un presidio sanitario, eccetera, eccetera, oltre all'avvisto del terreno dove sto cliccando, non sempre, perché la battuta è stata donata da Consor Casa, una cooperativa legata a Nicoletti, della parte italiana, mondiana, 309 mila regolari donati pubblico, ma non sempre, spesso si riesce a risparmiare in questo modo. Ecco, se sogniamo tutte queste spese dirette, arriviamo che nel triennio del 2010-2012 il Comune di Roma ha speso 20 milioni di euro ogni anno per ogni persona, che se dividiamo per determina 500 persone che vivono di mitaggi attrezzati, è una cifra di 450 euro a persona al mese. Ma queste sono solo spese dirette, ci sono anche le spese indirette. I cambi sono luoghi di marginalità, di segregazione, sono detti sociali dove, chiaramente, in quanto detti, si annibili alla criminalità. Vogliamo aggiungere a queste spese quelle per la carcerazione, visto che il campo non è ritenuto un uomo per riscontrare a livello di licitare la detenzione? Vogliamo aggiungere tutti i percorsi di uscita verso la prossima dipendenza? Vogliamo aggiungere, quanto detto dal Presidente del Tribunale di Nuremmi, il 18 marzo 2013, io contesto quello che fa il Comune di Roma e il Tribunale di Cetavallo. Se consideriamo la cifra che il Comune di Roma paga per i migliori uomo collocati in struttura, che sono centinaia di migliaia, ricordo ad esempio il caso di 5 bambini collocati in casa famiglia per 7 anni, ho calcolato che solo per questi bambini uomo sono stati spesi più o meno 950.000 euro. Per un altro caso mi ricordo 500.000, per un altro ancora 300.000. Con tutti questi soldi si potrebbe invece pensare di dare una sistemazione uomo, se fosse il sindaco di Roma, con tutti i soldi che adesso vengono a dare le case famiglie a pensare a prima di tutto e chiudere i campi di Roma. Quindi abbiamo un secondo motivo per cui i campi vanno chiusi, è che è la spesa enorme, diretta e diretta, che viene impegnata per il loro mantenimento. Un terzo motivo è, anche lo che è stato più caro, la violazione dei diritti. Il campo è un luogo dove i diritti vengono sistematicamente violati. In primis il diritto alla non-iscriminazione. Il campo è un luogo dove le autorità lo dici di scomprenditori liberi i rompi. Quindi se c'è un'emergenza abitativa, per i campi si propone il campo. Se si sgomberano dei cittadini affogati e richiedenti a sino, danno una soluzione alternativa, non si conoscono certi i campi. Si conoscono le strutture dei guardi socioassistenziali del comune. se sanno i rompi in maniera automatica nei campi. Ecco, questo qui c'è un profilo discriminatorio molto chiaro, che è stato proprio inconosciuto l'altro posto, non tribunale, c'è il cittadini di Roma, in cui è discriminatorio decidere su base etnica dove devono vivere le persone. Ecco, nelle nostre linee di guida, che un po' ha anticipato Pavelio, quindi, oltre ai cinque punti generali, che sono la valuta dell'approccio emergenziale, che tuttora contraddistingue anche questa amministrazione, perché anche in un piano organico si lavora sull'emergenza, l'istituzione di un'agenzia comunale ad hoc, che abbia il compito di chiudere i campi, e non il compito, come il quale dice o no, ma di mantenere i campi. L'istituzione di un sistema di regolarizzazione degli aboli di fatto, allora ci sono circa cinquecento persone ero ma prive di documenti, pur essendo nati in Italia, da genitori nati in Italia, talvolta da nonni nati in Italia. In questo senso, alcune città come Torino, mettendo su un tavolo tra consolati, prefetture, professore e ambasciate, sono riusciti in proprio tempo a dare documenti a persone che comunque sono inespedite. Altro punto è la riconversione lavorativa di chi lavora in Italia, che da soggetto che gestisce il campo deve diventare soggetto che aiuta nella fuoriuscita delle persone dei campi. E infine, l'alziamento di tutti i canali preferenziali che finora hanno candidato i sindaci rappresentanti a Roma. Questi punti erano due punti presenti anche nell'agenda Roma e Sinti, che è un'associazione che l'ho presentato il 16 gennaio e che solo tre candidati sindaco sui 12 hanno firmato, non è tutto attuale. Allora, noi siamo andati oltre proponendo una sperimentazione concreta. Noi vogliamo che l'amministrazione dica quali campi chiude e entro quanto li chiude. Altrimenti, anche la passata giunta, guardate, se voi fate una ricerca nel semestrano, parlava di superamento dei campi. I campi erano costruiti per poi uscire dal campo. Quindi, si costruissero i campi per far uscire Roma dai campi. e i tempi certi sono la chiusura entro i 18 mesi del villaggio attrezzato di Castel Romano e la nostra chiusura entro i 18 mesi del campo della Cesarina. Il campo di Castel Romano sono i due campi più grandi di quelli di questa amministrazione che hanno scelto queste teorie che sono in Italia in cui vanno realizzate presso delle interventi strutturali che avvenirebbero tantissimi soldi e perché sono i più grandi e più piccoli degli 8 villaggi attrezzati. Quindi, sono un po' gli estremi di una forbice. Il campo di Castel Romano ha quasi circa 1300 persone è stato costruito nel 2005 ha una spesa stimata di mantenimento di circa 300 mila euro al mese ma in più a quasi 4 milioni di euro ogni anno. Quindi, è un campo che rispetto agli altri costanti meno rispetto all'altro di campi costosi. In questi campi si è verificata già una fuori uscita di Roma di circa 150 euro negli ultimi mesi sono usciti da questo campo rifiutando di media e c'era un tempo. E poi c'è il campo della Cesarina che è stato realizzato nel 2003 accoglie poche persone 160 persone di nazionalità di nazionalità bosnia che rimanera. Come si può chiudere Castel Romano e come si può chiudere la Cesarina? Anzitutto il primo punto abbiamo detto individuare e rendere pubblici i tempi certi di più su una massima di 18 mesi. Un secondo stipulare un regolamento a termine dei pensieri che prevede come criterio di permanenza una soglia di reddito ISEN. Ci sono questa azione si parerebbe con l'obiettivo di allontanare volantariamente alcune famiglie in possesso di risorse economiche. Un terzo punto è quello di monitorare numeri e familiari in possesso di contratto regolare il contratto lavorativo e attraverso una variegata gamma di soluzioni proporre e promuovere un'uscita graduale dal campo. Un altro è monitoraggio invece di individuazione da parte dell'Agenzia Comunale di numeri e familiari e equilibri di regolare il contratto lavorativo per fare i numeri per i percorsi che formalizzino competenze già acquisite e infine monitoraggio di individuazione da parte dell'Agenzia Comunale di numeri e familiari in condizioni di particolare fragilità per i quali è già previsto lo specifico intervento di presa in carico noi riteniamo che in 18 mesi sia possibile far questo c'è secondo noi dell'associazione di gruppo di gruppo centrale con cui si andrà a misurare ogni piano di qualsiasi amministrazione cioè ci sono tre criticità fondamentali che se non si superano qualsiasi sezioni non può essere svolta c'è negli anni il dottore c'è un'incapacità istituzionale dell'amministrazione di dialogare con i Roma riteniamo che fino ad oggi questa amministrazione ma soprattutto la passata aveva proprio un'incapacità di dialogare con i Roma c'è un'incapacità istituzionale di parlare dei Roma il primo atto che ha fatto questa amministrazione è stata l'ordinanza del 5 agosto in cui si parla di trasferimento di persone crossi dall'insediamento spontaneo di nomadi e nell'ordinanza per 5 volte si parla si continua a parlare di nomadi guardate non è una questione semantica lessicale finché un'amministrazione parla di nomadi è perché dice che sono nomadi e quindi per loro non sono periodisti in casa quindi questa amministrazione continua a parlare di nomadi dimostrando lui questa incapacità di parlare dei Roma e poi l'incapacità di parlare alla popolazione romana della questione Roma allora a questo punto mi sembra che un esempio di esposo sia una migrazione del sindaco Marino in riferimento a Residenze che ha fatto il 5 settembre lui è riuscito in poche parole a comunicare i cittadini l'importanza di chiudere i Residenze dicendo vogliamo superare la logica dei Residenze e offrire un buono di 7-800 euro al mese a famiglia lo scopo è evitare di spendere 136.000 euro l'anno a famiglia con l'ex pastorgi nuovo senza servizi il buono da 700-800 euro al mese permetterebbe di aiutare con lo stesso pagiat annuale nel tricco delle famiglie che è lo stesso medesimo aggiornamento che facciamo con gli stessi soldi quindi non hanno presi altri soldi con gli stessi soldi che attualmente l'amministrazione utilizza per mantenere il campo petto è possibile riconvertire il medesimo denaro per progetti di inclusione sociale che una volta impiegati significa che se il comune di un'altra cresce da qui a centri di più del più del più di bilancio attrezzato quelle che sono se con un tempo destinato al bilancio attrezzato possono essere poi rimesse nell'ambito dei servizi ecco noi abbiamo concluso questo documento è stato inviato questa mattina alle 9 agli amministratori del sindaco questo per i dati di che non lo conoscono è un documento quindi che sollecita che l'amministrazione apprenda una posizione sperando che sia in questa direzione altrimenti comunque è importante sapere qual è la posizione per il prossimo quinquennio di questa amministrazione su quella che ci confronteremo come associazione dando la massima disponibilità a qualsiasi aiuto sui progetti di inclusione sociale viceversa facendo il muro come abbiamo fatto negli anni passati qualora gli interventi continuano nel reiterare azioni o osservazioni che comunque puntano e investono sul mantenimento del sistema campi grazie